La storia è questa. C'è un progetto dell'Ater che prevede la demolizione del ferro di cavallo di Pescara e comostro da oltre un centinaio di appartamenti e noto alveare di criminalità. Un edificio da sostituire con due nuove palazzine, metà degli alloggi attuali e spazi senz'altro più dignitosi. C'è poi un comitato di cittadini al quale quel progetto non va giù per niente. Non la demolizione in sé, approvata da tutti, ma la ricostruzione, così come è stata progettata. E c'è, naturalmente, la politica, chiamata a sciogliere in un senso o nell'altro i brutti nodi di via Tavo e dintorni. Dopo le 643 osservazioni presentate dal comitato per una nuova Rancitelli, respinte in blocco, nell'aula consigliare la minoranza aveva voluto alzare l'asticella con una cospicua dose di emendamenti al progetto Ater, sostenuto dalla maggioranza. Sotto accusa è finita la logica del ghetto, cioè la scelta di perpetuare la collocazione delle case popolari nei soliti quartieri, invece di favorire l'integrazione in diverse zone della città. L'opposizione sostiene che, al netto delle occupazioni abusive, chi versa in difficoltà economiche continua ad essere relegato a San Donato, Rancitelli e in altri quartieri complicati. Inoltre, le due palazzine finirebbero per ricreare una piazza chiusa e definita dai suoi abitanti. Il sindaco Carlo Masci non ha affatto condiviso le critiche e ha contestato quella che viene definita densità abitativa della zona, rivendicando invece la cacciata degli abusivi. Costruiremo una piazza bella, sicura, verde e vivibile per tutti, ha detto oggi in aula, con uffici e negozi e con una nuova sede Ater. Dunque, dopo le osservazioni, i giorni di discussione, gli emendamenti e dopo anche la firma di 1.300 cittadini contrari al progetto, oggi la delibera è stata portata al voto, uscendo vincitrice. 18 i voti a favore e 10 i contrari. A nulla è servita anche la mozione che puntava ad ottenere maggiore partecipazione alla stesura del progetto definitivo, presentata dai 5 Stelle e sostenuta dal centro-sinistra, bocciata pure quella. Così si torna al punto di partenza. Per l'opposizione, un'occasione di democrazia persa. Per il centro-destra, un modo per disegnare il nuovo volto della città.